vetrate scorrevoli quanto costano? ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema bisacchi quanto costano le vetrate scorrevoli? prima di tutto bisognerebbe dire quanto costano rispetto a cosa? rispetto al materiale o rispetto a altri tipi di aperture? però vi posso dire questo cioè quando una finestra un'apertura scorrevole è di dimensioni entry level perché diciamo uno scorrevole vale la pena fare a partire da due metri che sono due metri per due metri e 40 il classico scorrevole rispetto a un battente costa abbastanza di più c'è abbastanza differenza già di partenza già uno scorrevole normale a prescindere dal tipo di materiale che voglio utilizzare quando invece iniziasse una vetrata di dimensioni molto più grandi magari un 4 metri queste differenze si assottigliano perché pensiamo una vetrata a 4 metri se la faccio abbattente quante aperture devo mettere al di là della bruttezza che anche se non si potrebbe dire ma rende l'idea la bruttezza di una vetrata con tutte le finestre apribili magari un'apribile una fissa un'apribile una fissa invece uno scorrevole con due grandi vetri con solamente un montante magari minimale sottile in quel caso la differenza potrebbe essere anche lì potrebbe essere anche in alcuni casi che conviene lo scorrevole rispetto ad un'apertura abbattente poi cosa succede per darti un parametro uno scorrevole fatto un po come si deve magari in alluminio radio termico con delle prestazioni degne degli anni 2021 quindi quando ora esistono già dei limiti abbastanza restrittivi e abbastanza direi corretti potrebbe partire nell'ordine dei 600 euro al metro quadrato uno scorrevole di questo tipo poi se invece parliamo di uno scorrevole magari panoramico quindi quegli scorrevole dove non vedo profilo attorno quindi completamente vetrato c'è l'hermess degli scorrevoli a livello di estetica e di prestigio questo tipo di scorrevole potrebbe raddoppiare come costo quindi potrebbe essere uno scorrevole attorno ai 1200 euro al metro quadrato costi che ti dico sono relativi perché dipende poi dalla tipologia d'apertura dalle dimensioni però per darti un'ordine di grandezza per farti due due conti in tasca velocissimi puoi capire se parli magari di un infisso da 2000 o da 20 mila euro con questi parametri che ti ho dato e per consigliare qual è il tipo discorrevole giusto e quando conviene quando non conviene ho ideato un servizio di consulenza personalizzata lo faccio solo per quei clienti che non posso servire direttamente con la mia azienda perché non mi piace avere conflitto di interessi e questo succede quando tu vai a farti fare i preventivi da due o tre rivenditori produttori ognuno ti dice la sua ti dice qual è il migliore perché magari ha degli interessi a dirti una cosa piuttosto che un'altra ecco se accedi alla consulenza con stiamo i sacchi non avrai più questo questo dubbio perché ti consiglierò la soluzione migliore nel tuo caso specifico se vuoi saperne di più vai su www.blogbisacchi.it e affrettati perché durante la settimana e anche salto mattina lavoro per la bisacchi e solo salto pomeriggio quattro ore alla settimana ho deciso di aiutare chi come te ha bisogno di un consiglio ciao e al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti